Le isole Hawaii sono l'arcipelago più remoto del pianeta. Queste polle d'acqua limpida sono ricche di nutrimento e sono il luogo ideale dove un pesce può vivere appartato, lontano da rivali e predatori. Eppure queste polle d'acqua contengono pesci, e per una buona ragione. Sembrerebbe che nessun pesce sia in grado di risalire questa cascata, ma c'è qualcuno che viene dall'oceano proprio con questo preciso intento. È un piccolo ghiuzzo che sa arrampicarsi sulle rocce. Possiede delle pinne pelviche a forma di disco che agiscono come una ventosa. Quindi il ghiuzzo ha bisogno soltanto di una sottile pellicola di acqua per risalire le rocce. Il pioniere è subito seguito da molti altri esemplari, probabilmente guidati dalla traccia del suo odore. I pesci si arrampicano lentamente, andando controcorrente su questa parete immensa. Le gocce d'acqua cadono come bombe. La cascata è impetuosa. Che sbaglia strada spreca energie vitali. Alcuni devono riposarsi e trovano qualche cavità in cui infilarsi. Per altri, lo sforzo è troppo grande. Molti muoiono nel tentativo di raggiungere la meta. Nonostante le difficoltà, alcuni esemplari riescono eroicamente a raggiungere la cima dove trovano un ambiente adatto alle loro esigenze. Il posto perfetto. Qui, i ghiozzi possono nutrirsi, crescere e riprodursi in pace. Fino al momento in cui i loro piccoli verranno riportati via dalla corrente e trascinati in mare aperto per dare inizio a un nuovo ciclo vitale. 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 рукPR